Buonasera dai Campi Kennedy, torneo Summer Cup, seconda giornata, si affrontano quest'oggi il Pastore Team contro FC Mambo del Girone C, ecco le squadre che si dispongono in campo, il saluto e il passaggio dell'FC Mambo stasera in maglia gialla, ecco passare il Pastore Team in maglia blu scuro, andiamo a vedere il salteggio per il campo, sceglie l'FC Mambo e ci rivediamo tra poco per l'inizio del primo tempo tra FC Mambo e Pastore Team, andremo a seguire ora tutta la fase iniziale del match. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Secondo tempo tra FC Mambo e Pastore Team, risultato di tre reti a zero per il Pastore Team, ed ora seguiremo tutto il secondo tempo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!